Recentemente ho fatto un video dove parlavo di burro. Oggi voglio continuare il tema grassi parlando di olio extravergine di oliva. Abbiamo risolto tanti dubbi legati al mondo del burro, alla sua scelta durante gli acquisti, al suo utilizzo in cucina. Voglio cercare anche di dare qualche indicazione utile per scegliere nel migliore dei modi possibili questo tipo di grasso e come utilizzarlo anche magari in cucina. Allora inizialmente tendo a sottolineare il fatto che a livello generale l'olio extravergine di oliva viene identificato come un vero e proprio farmaco alimento. Ci sono dei requisiti ovviamente che deve avere per poter essere definito tale e adesso li andremo a vedere. Perché un farmaco alimento? Perché effettivamente oltre all'apporto di grassi ha un bilanciamento molto corretto fra i grassi stessi che contiene e abbiamo già visto quanto sia importante quando abbiamo parlato di burro avere un bilanciamento idoneo. Ogni grasso vegetale o animale che sia è composto a sua volta da grassi e questi grassi si differenziano soprattutto sotto tre categorie gli acidi grassi saturi, gli acidi grassi monoinsaturi e gli acidi grassi polinsaturi. Il loro nome deriva dalla loro conformazione e in base alla presenza di grassi saturi, grassi monoinsaturi e polinsaturi si definisce il bilanciamento. Ovviamente l'obiettivo è quello all'interno di un grasso di avere un ridotto quantitativo di acidi grassi saturi, un buon quantitativo di acidi grassi monoinsaturi che noi possiamo identificare come acidi grassi omega 9 e un buon bilanciamento, un corretto apporto bilanciato, adesso specificeremo anche questo concetto, fra omega 3 e omega 6 ossia quei grassi appartenenti alla famiglia degli acidi grassi polinsaturi. La bottiglia di olio che ho in mano l'ho coperta perché il mio obiettivo non è quello di pubblicizzare o dare degli spunti su dei marchi e su delle case produttrici ma il mio obiettivo di questo video è quello di darti tutte le informazioni utili in modo tale che sia tu in maniera autonoma a saper scegliere in modo corretto il grasso ideale. Chiariamo subito il fatto che l'olio extravergine di oliva è fra i grassi più commercializzati quello che ha un bilanciamento più corretto se vogliamo fra quello che dicevo prima i vari tipi di acidi grassi. In particolar modo io qui ho una tabella che mi dice quanti acidi grassi saturi, moninsaturi e polinsaturi contiene la maggior parte dei grassi che che utilizziamo fra cui ad esempio l'olio di girasole, l'olio di semi di mais, l'olio extravergine di oliva, il burro, l'olio di parma eccetera. Infatti sull'olio extravergine di oliva andiamo a vedere che c'è un circa 15 per cento di acidi grassi saturi contro ad esempio il 51 per cento di un olio di palma. Abbiamo un buonissimo quantitativo di acidi grassi omega 9 quindi stiamo parlando di acido oleico che ha una funzione diciamo protettiva nei confronti dell'apparato cardiovascolare e che ovviamente anche tende a promuovere e a migliorare la colesterolemia. Quindi tutti i valori aggiunti che se presenti in un grasso ben venga. Poi c'è un bilanciamento interessante fra omega 3 e omega 6. Abbiamo un omega 3 quindi un 1 per cento di omega 3 ogni 9 omega 6. Allora la comunità scientifica recentemente ha stabilito un range cioè un grasso per poter essere definibile ben bilanciato e per garantire un apporto bilanciato di omega 3 e omega 6 dovrebbe contenere circa un omega 3 ogni 5 omega 6 fino ad arrivare ad un massimo di 1 omega 3 a 10 omega 6. Lo so che è una cosa complicata però per chiarirti un po' questo concetto noi quotidianamente dovremmo avere un bilanciamento abbastanza preciso fra omega 3 e omega 6. L'olio extravergine di oliva diciamoci tutela sotto questo aspetto quindi il consiglio già che possiamo dare è quello di cercare di utilizzare molto più frequentemente l'olio extravergine di oliva rispetto ad altri grassi che magari hanno un'esposizione eccessiva rispetto agli acidi grassi omega 6 che se assunti in maniera eccessiva in dosi eccessive quotidianamente rischiano di fare il contrario di quello che dovrebbero fare ossia rischiano di essere dannosi per la nostra salute anziché avere degli apporti positivi e questo è l'esempio dell'olio dell'olio di semi di mais ad esempio dove abbiamo un omega 3 ogni 57 omega 6 e questo si lega molto a ciò che sono le nostre abitudini soprattutto recenti di accedere ad alimenti già confezionati già pronti ma anche semplicemente a panificati dove vengono utilizzati troppo frequentemente grassi che si portano dietro tanti acidi grassi omega 6 hanno fatto sì che noi nella parte occidentale del mondo siamo troppo esposti verso gli acidi grassi omega 6 e mediamente la nostra esposizione il nostro bilanciamento è tarato su un omega 3 ogni 20 circa omega 6 quindi siamo completamente spasati verso gli omega 6 ecco utilizzare l'olio estravergine di oliva significa avere un olio ben bilanciato che ci garantisce un corretto apporto sì di omega 3 ma anche di omega 6 senza eccederne poi c'è un discorso da fare legato agli acidi grassi saturi diciamo che non tutti gli acidi grassi saturi sono da demonizzare infatti ad esempio l'acido stearico è un grasso saturo però insomma non è se assunto ovviamente in dosi corrette non è assolutamente dannoso anzi viene definito un acido grasso saturo buono e la stessa cosa ovviamente vale per gli acidi grassi omega 3 e omega 6 devono essere ben bilanciati per portare benefici al nostro corpo punto andiamo adesso a capire il perché anche dell'utilizzo dell'olio estravergine di oliva in cucina ovviamente la miglior cosa è quella di utilizzarlo in principal modo a crudo oppure fare sempre attenzione a non superare soglie di temperatura che potrebbero danneggiarlo quindi impoverirlo ma anche produrre sostanze dannose superando quella soglia massima che viene definita punto di fumo questo è un altro tassello importante su cui voglio fare un approfondimento il range del punto di fumo della temperatura del punto di fumo parte da 160 gradi arriva fino a 210 per quanto riguarda l'olio estravergine di oliva è ovvio che quando noi acquistiamo un olio estravergine di oliva non ci viene indicato di che tipo di coltivare quanti polifenoli contiene quanta vitamina e contiene tutte cose che possono aiutare ad alzare il punto di fumo quindi io per essere sereno e tranquillo nel divulgare queste cose tendo a dare come limite massimo per l'olio estravergine di oliva 160 165 gradi quindi quella è già una soglia alla quale dovremmo fare riferimento una temperatura a cui fare riferimento da non superare quando si usa l'olio estravergine di oliva un'altra cosa che va aggiunta e mi rifaccio a quello che dicevo poc'anzi il contenuto di polifenoli di antiossidanti e di vitamina e è fondamentale anche per garantire un alto punto di fumo e una conservabilità prolungata di questo prodotto se noi ci perdiamo per strada quegli elementi purtroppo il nostro olio può andare incontro a perossidazione precoce quindi ossidare in maniera in maniera rapida e non essere conservabile in maniera ottimale quindi questo per dire che la spremitura a freddo non è semplicemente una moda la spremitura a freddo garantisce all'interno dell'olio che viene imbottigliato la presenza maggiore rispetto ad un olio che invece è stato spremuto utilizzando alte temperature di questi elementi che sono non solo benefici per noi ma anche per l'olio stesso in modo da garantirne una conservabilità idonea qualche consiglio per quanto riguarda anche la conservazione dell'olio io in realtà ho giocato sul discorso della copertura della carta stagnola è l'unico utilizzo che faccio della dell'alluminio ed è schermare ulteriormente dalla luce il nostro il nostro olio questo va fatto soprattutto per altri grassi ad esempio l'olio di semi di lino e quello va conservato in maniera molto accurata anche se non c'è scritto sull'etichetta sulla bottiglia che va conservato in frigorifero io lo conservo sempre e solo in frigorifero è un olio molto delicato e come dicevo prima tende ad andare incontro per ossidazione rapida ad un'ossidazione rapida e purtroppo un acido grasso omega 3 ossidato fa più male che bene quindi anche proteggerlo significa dare dei valori aggiunti nel momento in cui lo sto consumando e non perdermi per strada cose importanti come possono essere gli effetti positivi degli omega 3 e evitando di portarmi in casa quindi all'interno del mio corpo qualcosa che andrebbe ad accelerare lo stesso ossidativo ossia acidi grassi ossidati consiglio anche di consumare quotidianamente una certa dose di semi allaginosi di frutta secca questo apportano questo gruppo di alimenti apportano in maniera molto interessante importante e non ossidata ovviamente come può essere in un grasso estratto omega 3 omega 6 in particolar modo noci e semi di lino apportano un buonissimo quantitativo di omega 3 che vanno a bilanciare eventualmente l'esposizione eccessiva verso gli omega 6 bene queste sono alcune indicazioni legate all'olio extravergine di oliva in realtà ci sarebbe tantissimo da dire però l'importante è capire che ci sono delle soglie di temperatura da non superare in particolar modo olio extravergine di oliva 160 gradi è il grasso da prediligere sia crudo che a cotto e per quanto riguarda la sua conservazione teniamolo lontano da fonti di luce e da fonti di calore evitando di fargli prendere sbalzi di calore quando lo acquistiamo accertiamoci che siano se non altro olive 100% italiane e spremitura a freddo ciao a presto